Mi rendo conto che un giovane che ascolta le parole che dico non è attratto da ciò che io affermo. E ripeto dire io sono marxista può anche essere frainteso perché si pensa che il marxismo coincida con quello che ha detto Marx. Già questo è un pregiudizio perché il marxismo è una corrente del pensiero economico che non coincide con quello che ha detto Marx ma che ha un metodo empirico di ricerca storica ed economica che si differenzia dal metodo degli economisti neoclassici o i figlioletti del pensiero economico neoclassico quelli che ho definito i neoliberisti. Però proprio per questo motivo io mi ritrovo nella condizione di dover raccontare in qualche modo quelli che sono stati quello che è stato più di mezzo secolo a partire dalla seconda guerra mondiale. Quali sono state le condizioni dell'economia del mondo e come queste condizioni sono state dettate da chi ha vinto la seconda guerra mondiale e quindi da come queste condizioni sono state dettate ed imposte dagli Stati Uniti d'America e quali sono stati gli effetti di queste imposizioni degli Stati Uniti d'America all'economia del mondo. Il ragionamento per cause è il fondamento, il metodo del pensiero economico marxista. Ciò non significa che il pensiero economico marxista ha un paradigma fisso, invariabile. Significa che questo tipo di pensiero che principalmente si occupa di macroeconomia, questo tipo di pensiero fa ricerca empirica. Quindi a partire dai dati storici cerca le cause che conducono alla situazione del presente. questa stessa impostazione è un'impostazione che un giovane fa difficoltà a ricepire. Perché? Per motivi ideologici inerenti allo stesso neoliberismo. Perché si concepisce la storia come fatta da fasi staccate una dall'altra, separate una dall'altra. Qui si potrebbe parlare per ore dello scritto di Lyotard, postmodernismo, che ci dice che tutti i vecchi racconti li possiamo mettere da parte perché non hanno risolto i nostri problemi di la Lyotard nel 78 e nel 79, non sono in grado di interpretare la realtà e quindi da questo punto di vista si rendono equivalenti tutte le narrazioni. Ma voi capite che dal punto di vista strettamente filosofico questo significa rinunciare rinunciare a pensare. Perché se rinunciate a trovare le cause storiche degli eventi, voi avete rinunciato a pensare. pensateci, pensateci. Allora è naturalmente l'onere della prova delle cause, per chi sostiene che la storia è una sequenza di cause, spetta a me che dico ci sono le cause. E qui nasce il secondo problema. Quindi, oltre ad un problema di carattere filosofico generale, che significa ritornare alla storia come oggetto di studio pensato per cause, c'è anche un problema di carattere divulgativo. In che senso? Nel senso che quello che vi starò per dire, che è una sintesi, supersintesi, di quello che è avvenuto dal 45, per esempio, al 71, ma è una supersintesi fatta in tre frasi. Questa supersintesi richiederebbe l'onere di prove empiriche, quindi di dati e quindi di studi approfonditi e quindi di bibliografie e quindi dell'ecitazione di libri. Capite che se questo può essere fatto, può essere fatto. E in alcuni casi l'ho fatto per certe cose. Si potrebbe anche fare per questa parte qui e magari lo farò. Però, se dal punto di vista divulgativo distribuisco questa conoscenza in video di ore, che dono magari dieci video di un'ora ciascuna, sono dieci ore, ma chi me sente? Cioè, non c'è il tempo di recepire nel dettaglio tutto questo. È un lavoro che si può fare, non per tutti gli argomenti, per certi argomenti uno sceglie e dice, vabbè, approfondirò questa parte qui. Questo per quanto riguarda il metodo, questo per quanto riguarda, per così dire, l'impostazione di fondo di ciò che cerco di dire in questi video e di come lo dico. Un'impostazione del genere ha, per esempio, riguardato, l'ho fatta riguardo alla nascita della filosofia. No? E però sono ore e ore. Cioè, nel senso che uno si dovrebbe mettere lì a ascoltare me per ore e ore e poi, se essere ancora più preciso, prendere, diciamo, nota dei libri, andarsi a leggere i libri che dico e, diciamo, che do come riferimenti, e allora avrà un'idea più precisa di che cosa sia consistita la nascita della filosofia. Ma questo, per chi ha seguito, diciamo, se vuole andare a vedere, quanto vi dico comporta analisi di tipo filologico, che si distanziano molto da quello che vi viene raccontato a scuola, diciamo, nelle scuole secondarie, argomenti particolari che riguarda, per esempio, lo studio delle tavolette babilonesi. Cioè, si può anche arrivare a quel punto. Come si può arrivare a quel punto, diciamo, ad un punto di risoluzione storiografica per quanto riguarda, appunto, la supremazia, la storia della supremazia degli Stati Uniti d'America sulla storia e il condizionamento sulla storia del mondo dal 1945 ad oggi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Non è il caso di questo video. Dedicare una serie a tutto questo mi richiede un certo sforzo. Magari alcuni tratti di questa vicenda li approfondirò. Però per oggi è proprio qualcosa, voglio dirvi, cose, diciamo, molto semplificate, ma che racchiudono la sintesi di questa visione. Vi ripeto, questa non è una visione che è un semplice racconto. È una visione che può essere che può essere appoggiata da dati, da dati empirici. Allora, il primo punto è questo, è Bretton Woods. Poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale si sapeva già che gli Stati Uniti d'America avrebbero vinto questa Seconda Guerra Mondiale e si pose il problema di come regolare l'economia del mondo. Ve la faccio breve. A Bretton Woods fu deciso che un oncia d'oro corrispondeva a 35 dollari. Quindi gli americani potevano esportare ed importare, ma in ogni caso l'equivalente in oro del dollaro rimaneva fisso. Questo per gli americani, per gli Stati Uniti d'America, era il massimo che potessero ottenere. Vi appunto, vi dico soltanto per inciso che Keynes, all'epoca, aveva fatto una diversa proposta, che sarebbe stata una proposta più democratica e più giusta nei confronti di chi aveva perso la guerra. Per ora questo non lo approfondiamo, ma sarebbe argomento da approfondire. Quindi si decise a Bretton Woods di seguire quello che decise White. Un oncia d'oro, 35 dollari, equivalente a 35 dollari. A questo punto, per capire quello che successe, dovete tenere conto di che cosa sia la moneta. Ora, qui ci sono diversi concetti che riguardano la moneta. La moneta a debito, la moneta non a debito, la moneta come mezzo di pagamento, eccetera. Questo significa fare una lezione di economia. Non è il caso. Accontentiamoci per ora di intuire una cosa importante. La dimensione verticale della moneta. Cioè, la moneta è stampata, fatta da uno Stato. attraverso questa moneta lo Stato riprende le tasse e attraverso questa moneta lo Stato commercia con l'estero. Con ciò che non è quello Stato. Quindi, gli Stati Uniti d'America stampano dollari. Cosa comprano con questi dollari? Commerciano con l'estero. Comprano quello che hanno, di cui hanno necessità. Gli altri Stati, che non sono gli Stati Uniti d'America, sanno che per gli accordi di Bretton Woods, un once d'oro corrisponde a 35 dollari. Quindi, gli altri Stati, dato questo tasso fisso, data questa equivalenza fissa, fissata per convenzione a Bretton Woods. Tra l'altro, gli accordi di Bretton Woods non sono consistiti soltanto in questo. Stiamo, appunto, sto facendo una selezione. C'è stato questo accordo. Hanno, quindi, questi altri Stati, gli conviene commerciare con l'America, a questi altri Stati conviene commerciare con l'America, proprio perché vi è questo tasso fisso. Teoricamente, se questi altri Stati andassero in America e dalla Federal Reserve esigessero l'equivalente in oro dei dollari che hanno, questo dovrebbe essere dato. Portano 35 dollari, la Federal Reserve gli dà un once d'oro e così via. Questo dà sicurezza, dà fiducia alla moneta americana, cioè dà fiducia al dollaro, tanto che quasi tutto il commercio del mondo viene effettuato in dollari, proprio perché vi è questo tasso fisso. Tutti hanno interesse di commerciare in dollari. Dal punto di vista dell'equilibrio monetario, chiamiamolo così, voi immaginate questi flussi di dollari che escono dall'America per andare a comprare petrolio, acciaio, quello che serve. Quindi escono dollari, arriva petrolio, acciaio, arrivano beni. Quindi dall'America escono dollari, arrivano beni. Fuori dall'America c'è chi accumula questi dollari. Naturalmente questi possono andare in America a comprare, che ne so, la carne, prodotti tecnologici. Quindi vi è un flusso di dollari che significa una certa quantità di dollari che escono dagli Stati Uniti d'America, una certa quantità di dollari che entrano negli Stati Uniti d'America. L'equilibrio perfetto, diciamo l'equilibrio a posto, sarebbe tanti dollari escono quanti dollari entrano. Perché? Perché l'America ha anche da offrire naturalmente i propri prodotti. tutto è retto dal fatto che 35 dollari corrispondono ad un'oncia d'oro. Punto numero uno. Punto numero due, tutto è retto anche dal fatto che l'America ha un'economia stabile. Cioè, tendenzialmente, tanti dollari escono quanti dollari entrano. Sto semplificando. E tutti gli altri paesi hanno fiducia in questa stabilità dell'economia americana. Che cosa accade con la guerra in Vietnam? Sto semplificando, vi ripeto. Questo non è semplicemente un racconto. Questo è sostenuto da fatti e da dati. Che ora non vi presento per una questione di sintesi. Che voglio sintetizzare per rispondere ai commenti, per esempio, di Franco Giacovelli o anche i possibili commenti, altri ulteriori commenti che ci possono essere riguardo a quello che dico. Che cosa accade con la guerra in Vietnam? Ancora prima, ancora prima della guerra in Vietnam. Attenzione bene. Però, semplifichiamo. Gli americani stampano dollari in sostanza e ad un certo punto non producono più petrolio perché vogliono costituire una riserva strategica. Quindi gli americani dicono io il mio petrolio non lo produco. Compro il petrolio dei paesi arabi. Perché può fare questo? Proprio perché si era stabilito che 35 dollari corrispondono ad un oncio d'oro. In fondo, nel comprare il petrolio dei paesi arabi, gli americani danno carta e ricevono petrolio e intanto mantengono ferme le loro riserve strategiche. Punto numero uno. Punto numero due. Per costruire le armi che poi le porteranno in Vietnam a fare la guerra o per sovvenzionare la guerra in Vietnam. Per sostenere la guerra in Vietnam. Che fanno? Stampano dollari. Tanto loro stampano carta. Capite qual è il punto? Dati gli accordi di Bretton Woods, gli americani capiscono che possono semplicemente stampare dollari per sostenere il proprio dominio sull'economia del mondo. Questo qui è, dal mio punto di vista, la prima infamità degli Stati Uniti d'America. Approfittano della convenzione che era stata stabilita a Bretton Woods per sostenere ed allargare il proprio potere sul mondo. Questo è il primo punto. E già a questo punto, dal punto di vista dell'intelligenza, superavano già la Russia. Intanto proibiscono agli altri paesi di fare ricerca, come l'Italia. Ricerca tecnologica, non ricerca di base. Ricerca tecnologica che avrebbe avuto una ricaduta sull'economia dei paesi in cui questa ricerca veniva fatta. Vedete il caso Olivetti. Intanto proibivano, per esempio, ai paesi come l'Italia, nella persona di Enrico Mattei, di rompere questa possibilità che avevano gli Stati Uniti di comprare con dollari, che erano pezzi di carta a questo punto, il petrolio dai paesi arabi. Ecco un'altra infamità che gli Stati Uniti d'America hanno fatto nei confronti dell'Italia. Questi due aspetti, Olivetti ed Enrico Mattei, non sono aspetti da poco. Perché vi è l'origine di attività economiche e di possibilità economiche che l'Italia si stava costruendo per sostenere il proprio sviluppo, l'Italia, avrebbe sostenuto il proprio sviluppo con le proprie forze. Al di là del consenso a questo dominio del dollaro in Italia e nel mondo, Enrico Mattei è stato fatto fuori, ucciso, ricordatevelo, Enrico Mattei è stato ucciso perché così hanno deciso gli Stati Uniti d'America. Olivetti fu assorbito dai capitali di Agnelli perché così è stato deciso dagli Stati Uniti d'America. Due infamità che mi rendono, quando ci penso, ancora di più anti-americano. Ora torniamo al caso generale. Gli americani stampano dollari e molti paesi si ritrovano ad avere questi benedetti dollari e a non sapere che cosa farsene. Perché? Perché già in quel momento, siamo alla fine degli anni Sessanta, gli americani non li ricevono questi dollari. Perché? A questi dollari di ritorno negli Stati Uniti d'America, loro non fanno corrispondere dei prodotti. Quindi fate bene attenzione. Gli americani comprano con della carta, della carta che si chiama dollaro, il petrolio dei paesi arabi. Sti paesi arabi si riempiono le casse di sti pezzi di carta. Così come lo fanno i paesi arabi, si riempiono di sti pezzi di carta tutti gli altri paesi che mandano merci negli Stati Uniti d'America, vendono agli americani e si ritrovano con sti cumuli di dollari che gli Stati Uniti d'America però non vogliono. Bene, se avete capito questo punto, avete capito perché nel 1971, il 15 agosto del 1971, l'amministrazione Nixon decide di staccare il dollaro dall'equivalente in oro. Ora, pensate un attimo. Tutti i paesi, moltissimi paesi, tutti quelli che commerciavano con gli Stati Uniti d'America, quasi tutti, si ritrovano ad avere, immaginate proprio, conti dappertutto con questi capitali, con questi dollari, che non hanno più un equivalente in oro. Questi dollari su che cosa si fondano? Si fondano sul fatto che l'America abbia un'economia stabile. Ma questa economia, la stabilità dell'economia americana, a che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che gli altri, tutti gli altri paesi, hanno fiducia in questa stabilità. Cioè la stabilità dell'economia americana in quel momento è dovuta al fatto che tutti gli altri paesi hanno fiducia in questa stabilità. Gli altri paesi cosa possono fare? Non possono che mantenere questa fiducia. Perché se questi altri paesi non avessero più fiducia nell'economia americana, nella stabilità dell'economia americana, i loro stessi capitali andrebbero a perdere di valore. Chiaro questo. I loro stessi capitali andrebbero a perdere di valore. Quindi il 15 agosto 1971 l'amministrazione Nixon dice noi rompiamo l'accordo di Bretton Woods. Allora tutti si chiedono come farà a stabilizzarsi il dollaro? Il dollaro e quindi tutta l'economia mondiale. Devono avere una certa fiducia. Spinte inflattive, deflattive, eccetera. Crisi petrolifera. Attenzione bene. La prima crisi petrolifera del 73. Se voi andate su se voi andate su Wikipedia avete i rimasugli dell'ideologia, no? Cioè rimasugli nel senso i resti dell'ideologia. Vi viene nominata la guerra del Kippur del 1973 come se quella fosse la causa della crisi petrolifera, eccetera. Succedeva qualcosa di molto semplice che è stato analizzato da Giuseppe Di Gaspare che è stato un funzionario della Consob e oggi insegna alla LUIS. Il libro che spiega questo passaggio abbastanza dettagliatamente si intitola Teorie che è critica della globalizzazione finanziaria. Cosa ci spiega Di Gaspare in questo testo? In questo testo Di Gaspare e in Soldoni ci dice questo. Ci dice che i paesi arabi cercavano semplicemente di vendere il loro petrolio tenuto conto del depreciamento del dollaro nei confronti dell'equivalente in oro secondo i tassi con cui era scambiato dollaro e oro nel mercato mondiale. In poche parole, se nel mercato mondiale un once d'oro non veniva più scambiata a 35 dollari ma a 70 dollari, quindi al doppio del valore in dollari, allora io raddoppio il prezzo in dollari del petrolio. Quindi quella crisi petrolifera non fu una crisi del petrolio, fu una crisi monetaria, una crisi dettata da motivazioni monetarie. Primo punto. Un altro punto qual è? Gli americani sapevano che tutti coloro che avevano questi soldi, questi dollari, in qualche modo dovevano investirli. Sti soldi non potevano stare fermi lì, né potevano essere regalati, perché in quel caso avrebbero causato la stessa perdita della valorizzazione di capitale di quegli stessi dollari e quindi degli stessi proprietari che li avevano. Cosa fanno gli americani? Ecco la terza infamità e questa è una interpretazione che deve essere avvalorata perché l'affermazione che vi sto per fare è forte. Gli americani ti inventano un colpo di Stato, una dittatura che è il Cile. Abbattono il Cile. Perché abbattono il Cile? Perché distruggono una democrazia nascente con i suoi problemi? Perché lo fanno? Perché grazie agli investimenti del Fondo Monetario Internazionale si potevano recuperare parte di quei capitali che erano fermi lì e che nessuno sapeva che farsene come investimento sul Cile. E quindi arriva Pinochet. Questa è l'altra grande infamità degli Stati Uniti d'America. Perché si ammazzano le persone, si creano le dittature, sostanzialmente perché gli americani vogliono mantenere la loro supremazia sul mondo come debitori. Attenzione! Perché loro sono debitori nei confronti del mondo. Ma vogliono pagare i loro debiti sul sangue degli altri. In questo caso sul sangue dei Cileni. Capite? Loro dicono prendete i vostri capitali e attraverso il Fondo Monetario Internazionale li investite in Cile. Noi ci mettiamo Pinochet. E Pinochet si occuperà di far fruttare questi capitali inventando e sperimentando un nuovo tipo di economia. Friedman. E vedremo che cosa ne viene fuori. Terza infamità. Che cosa accade è? In seguito. E qui mi fermo che sono già passati 30 minuti. Ma sostanzialmente il discorso è questo. Dopo averci provato in questi termini gli americani all'incirca negli anni 80 propongono la politica degli alti tassi di interessi sugli investimenti azionari. Siamo negli anni 80. Dateci questi capitali. Noi li faremo fruttare attraverso azioni, società per azioni, azione, attraverso la finanza. Attenzione bene. Dateci questi capitali. Noi ve li faremo fruttare attraverso alti tassi di interessi, attraverso la finanza. Intanto questi soldi vengono utilizzati in diversi modi. Ma non basta ancora. Fino a quando si arriva al capitale finanziario, alla finanziarizzazione del capitale. Sempre più finanziarizzazione. Viene richiesta sempre più finanziarizzazione a scapito di quella che poi veniva detta, verrà detta, l'economia reale. Questa è, per così dire, questo è il racconto, l'architettura su cui si basa il dominio degli Stati Uniti d'America. Per arrivare ai nostri giorni, sto veramente facendo dei salti enormi, vado con gli stivali delle 20.000 leghe. Ma per arrivare ai nostri giorni, io vi ho fatto vedere, ho fatto dei video sulla centralizzazione dei capitali e su come questa centralizzazione significa polarizzazione tra debitori e creditori. Perché ciò che è avvenuto allora, negli anni 70, è qualcosa che poi si è ripetuta nel tempo. Nel 78 comincia l'apertura della Cina ai mercati del mondo. Cosa dava la Cina all'America? Dapprima le plastichine, le plastichette. Poi ha cominciato a dare sempre più prodotti. Ma cosa dava l'America alla Cina i dollari? Capite qual è il punto? Davale i dollari. Dove sono tutti questi dollari ancora oggi? Chi li ha? Chi è il più grande creditore? Vi ripeto, sto andando con gli stivali delle 20.000 leghe. Però questa è la realtà. Chi li ha questi dollari? Li hanno i cinesi. Ora fate bene attenzione. Ci sono, per così dire, tutti questi dollari in mano ai cinesi. Ma i cinesi vogliono comprare pezzi d'America. Ma non lo possono fare. E ve l'ho già ridetto in un video. 5G, internet, eccetera. Problemi che ci sono stati con Huawei anni fa. Cioè, gli americani, per impedire che quella carta straccia del dollaro abbia realmente un valore che possa comprare pezzi di America, pezzi di società americane, si sono alzati e hanno detto no. Protezionismo. Huawei qua non entra. Quindi in fondo, pensate ai cinesi che hanno ricevuto i dollari. Si sono accorti che questi dollari sono pezzi di carta. Quindi, quarto punto dell'infamità americana. Quella di dire qualcosa e poi di rimangiarsi ciò che ha detto. E se ti ribelli, che cosa succede? Cioè, se qualcuno dice ma guarda, tu mi hai dato questi dollari ma io voglio comprare qualcosa da te. Cioè, questi dollari devono o non devono avere un valore. Se hanno un valore vero, devo riuscire a comprare qualcosa da te. No, ti dicono gli americani. Tu li puoi investire nella finanza. Li puoi valorizzare, questo tuo capitale, attraverso investimenti finanziari. Ma non puoi comprare da me direttamente oggetti, prodotti. Non te lo permetto questo. Perché in quel caso io ci perdo. In quel caso io ti ho dato qualcosa che ha un valore. Ma io voglio averti dato semplicemente dei pezzi di carta. Allora, a questo punto che accade? Gli Stati Uniti d'America dicono hanno detto nel passato e lo dicono oggi. Poi entreremo in certi dettagli che a me interessano di più perché sono questioni italiane. E vi dirò i casi in cui l'America ha agito nei termini in cui sto per dire nei confronti dell'Italia. L'America diceva già negli anni 70, 80, 90, 2000, 2020, 2021 fino ad oggi. L'America ti dice non ci stai a questo gioco. Bene. Allora ti sparo. Cioè questa è l'America. Capite? Voi cinesi non state a questo gioco dove io ci ho guadagnato tutto e voi ci avete guadagnato dei pezzi di carta senza valore. Capite? Non ci state a questo gioco e allora vi sparo. E se non vi sparo io lo faccio fare agli altri. Vedi? Guerra in Ucraina. Vi provoco. Capite? Vi minaccio. L'hanno fatto con la Russia. Minaccia la Russia. La Russia agisce. la Russia va contro. Qui troppe parole sono state dette su Ucraina, popoli, non c'entrano quasi niente. C'entrano perché sono povere vite umane che danno la loro vita per cause che loro non conoscono. questa è la realtà dal mio punto di vista. Se poi c'è chi crede alle libertà, a tutte queste fandonie, sono fandonie che vanno bene per i popoli giovani che non hanno studiato la storia. ma per chi la storia l'ha studiata a cominciare dalla storia antica queste favole chi ha studiato la storia non se le beve. Capite qual è il punto? Bene. Dal punto di vista ideologico al neoliberista non va bene chi studia la storia perché chi studia la storia lo studia realmente. A cominciare dalla storia antica le favole non se le beve. Hanno bisogno di persone che si bevono le favole. La favola dell'ideale, della libertà e così via. Mentre le ragioni di questa guerra in particolare della guerra in Ucraina sono ragioni capitaliste. Capite? Ragioni portate da quella da quello sviluppo del capitalismo che trovo come protagonisti fautori e autori proprio gli Stati Uniti d'America. attenzione bene. Se avete capito il mio ragionamento avrete capito pure che io non è che io sia filo russo a me non me ne fotte un cazzo della Russia. Mi piace la cultura russa. Posso anche apprezzare di più la profondità di un Dostoevsky rispetto ad Hemingway. Ma questo è un altro discorso. Capite? quello di polarizzare quello di dire per esempio ad una persona come me tu sei filo russo oppure sei un nostalgico del marxismo che posso capire detto da un giorno io lo posso capire questo detto da un giorno lo posso capire perché la prima volta che uno sente o le prime volte che uno sente qualcosa del genere resta un po' così perché naturalmente va contro davvero contro tutto il mainstream ma quello che voglio dire ai giovani è questo e non è allora essere anti-americano senza fondamento non vale nulla ma essere italiani e in quanto italiani anti-americani con fondamenti con argomenti e far vedere dove gli Stati Uniti d'America ci hanno tagliato le gambe e beh allora l'anti-americanismo ha un fondamento se poi quest'anti-americanismo ha anche un aspetto di tipo anticapitalista è un discorso che uno diciamo può accettare o meno ma che gli americani abbiano tagliato le gambe all'Italia e lo stanno facendo tuttora attenzione bene lo stanno facendo tuttora insieme ad Inghilterra Francia e Germania beh questo qui non si può dire che non sia vero capite questo non può dirsi che non sia vero ecco diciamo per rispondere ai commenti di Giacovelli ma anche di altre persone con cui si parla in chat con cui ho parlato in chat persone che vi ripeto sono giovani sono giovani questo non significa che non sappiano le cose le sanno per come loro sono state dette raccontate secondo altri criteri secondo altri criteri però vi dico analizzate bene i passaggi logici delle spiegazioni che vi vengono date poi prendete questa spiegazione che vi ho data io ma che non è mia e di molte altre persone che l'hanno fatta prima di me che io condivido analizzate i passaggi logici di questa seconda spiegazione e andate a vedere dove stanno le falle dell'uno o anche dell'altro discorso o anche dell'altra spiegazione ma se voi mi dite il tuo discorso è quello del nostalgico marxista e per questo non va bene allora io non posso essere d'accordo perché io dalla mia parte nessi logici nessi strettamente logici che spiegano cosa è accaduto e perché siamo arrivati fino a qui se qualcuno mi dice tu sei un nostalgico marxista posso accettarla perché ripeto è detta da un giovane l'accetto come critica possibile però mi devono essere forniti nessi logici almeno altrettanto validi quanto i miei affinché io accetti un'altra teoria non è che posso cambiare una teoria una spiegazione del mondo per una questione di moda cioè questo proprio non fa parte del mio stile io posso cambiare anche una forma del paradigma qualcosa ma mi deve essere ben spiegato come stanno le cose altrimenti rimango in quella diciamo in quella spiegazione fatta di nessi logici di dati empirici che convalida quanto dico ecco questo per giustificarmi diciamo io ora perché questo è un discorso questo è un discorso molto semplice semplificato e ci ho impiegato 42 minuti magari 45 quanto sono magari approfondirò alcuni aspetti di questo discorso per far vedere come quanto dico che ripeto non lo dico io vi ho nominato che ne so Giuseppe Di Gaspare vi posso nominare Mino Carcheri come marxista Stefano Lucarelli andate a vedere le lezioni di economia che fa sulla storia del pensiero economico o sulla politica economica Stefano Lucarelli sono professori universitari insegna all'università di Bergamo sono in pochi che insegnano questo tipo di teorie per capire di che cosa si tratta grosso modo da un punto di vista diverso da quello del neoliberismo va bene quindi arriviamo fino ad oggi riprendiamo la questione sulla guerra centralizzazione dei capitali io nel mio piccolo vi ho fatto due video certo non posso oppure potete approfondire andando a leggere il libro di Emiliano Brancaccio la guerra capitalista dove spiega quali sono i rapporti tra centralizzazione del capitale e guerra che è poi in questo senso guerra capitalista mi sa che è sufficiente vi ringrazio e al prossimo video vi ripeto i like servono affinché il video possa essere diffuso non abbiate paura di commentare anche di fare critiche forti a quello che dico spero che siano argomentate grazie e al prossimo video grazie a tutti